Eccoci, eccoci qua signore e signori gentildonne e gentiluomini di tutti i tempi, di tutti i mondi, di tutti i server, benvenuti. Io sono Fabio Mason e questa è la Mason Potamia e oggi dovremo per forza farmare un po' di grano. Comincerò a raccogliere tutto il grano che abbiamo nei campi, sia al borgo nuovo che al borgo vecchio. Dopodiché vedo se riesco a convertire una farm di rape in farm di grano e vorrò piantare anche del grano nella farm semi-automatica di verdura che abbiamo da quella parte lì. Sarà un bel lavoro, sarà molto molto lungo e direi che possiamo tranquillamente iniziare subito. Perché farmiamo il grano? Perché siamo praticamente sempre a secco di grano. Continuiamo ad andare a mangiare alle nostre bestie, alle nostre mucche e a tutti quanti e siamo sempre a corto, siamo sempre a corto. Quindi dobbiamo per forza di cose farlo. Se per caso conoscete qualche farm di grano che è possibile fare su Java 1.20.2, fatemelo sapere, fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando, scrivetemi. Ed eccoci qua, partiamo proprio veloci e spediti senza nessuna remora, per forza di cose, per forza di cose. Voi come state? Buon inizio di settimana a tutti quanti. Come potete vedere siamo già impegnati a lavorare. E bisogna, 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 perché qua non ce lo raccoglie nessuno questo grano, e attenzione, non ce lo raccoglie nessuno, quindi o dobbiamo sicuramente cercare di capire se è possibile fare una farm di grano automatica, perché dovete sapere che alla farm di frutti, di verdura, quella lì che coinvolge due agricoltori e un frecciaio, Io ho provato a togliere tutta quanta la coltivazione di rape da una parte, aggiungendo il grano, però secondo me l'omino lì all'inventario pieno di semi e quindi io un pezzettino di grano l'ho trovato sotto nella cesta, non vorrei che ci fosse finito per sbaglio, però un pezzettino l'ho trovato. Quindi più tardi andremo anche a provare nuovamente a togliere tutto, magari gli lanciamo qualche bello stack di semi di grano, anzi, non appena salò pieno qua, li li porterò. Vediamo, speriamo che pian pianino cominci a coltivare grano, perché abbiamo bisogno veramente di grano. E star qua così tutte le volte, sì, vabbè, è un ritorno ai periodi passati, ai periodi d'oro, ma sai com'è, ci sono un sacco di lavori da fare all'interno di questo server, all'interno di questo mondo, che quello di raccogliere il grano dovrebbe essere sicuramente uno dei lavori che purtroppo avrebbero eliminati, manualmente intendo raccoglierlo manualmente, ci mancherebbe. E quindi cerchiamo di fare più veloci possibili, non so se ci sia un metodo migliore di questo per raccoglierlo in modo veloce, se esiste fatemelo sapere, altrimenti, signori, dobbiamo cercare di diventarci un nuovo sistema, perché qua è difficile, è difficile, è difficile, va. Io ne ho raccolto parecchio anche settimana scorsa, se vi ricordate, non so se sia settimana scorsa o se siano già trascorse due settimane, però con la scusa che abbiamo un sacco di bestiame da dare da mangiare, un sacco di farm. Alla fine lo stiamo anche lasciando qua, ce ne serve tanto, ce ne serve molto. Faccio già così io, per scrupolo, ci proviamo. Li lascio giù manciate di semi a questi qua, a questo qua. Magari sia mai che si decida un giorno di iniziare a coltivare grano e non più rape, quindi facciamo così, poi gli ributto in maniera molto tranquilla, gli ributto qua. Vedi, io avevo zappato, se vi ricordate, avevamo piantato tutto il grano, però a quanto pare... Non so, non so, non è stato raccolto, non capisco, gli diamo sti semi qua e vediamo se ne farà buon uso. Vediamo se ne farà buon uso. Lo spero, ma sono anche quasi sicuro che non servia a nulla. Fare così, vabbè, lo scopriremo, lo scopriremo. Torniamo, torniamo nei campi, torniamo al borgo vecchio dove tutto è iniziato. Ogni giorno una conquista, la protagonista sarà sempre lei. Se indovinate il verso di questa canzone, me lo scrivete nei commenti e ovviamente, come sempre, riceverete il mio autografo firmato. E attenzione, attenzione. È una musa che ci guida a sfiorarla con le dita, questo è l'ultimo, come dire, indizio che vi posso dare. Fatemi sapere di che questa canzone, il titolo... Mi raccomando, mi raccomando, eh. Sono contento perché a breve avremo una nuova farm super produttiva di polvere da sparo. Eh sì, ne abbiamo già due e a breve arriverà la terza che praticamente lavorerà il doppio di tutte e due messe assieme. L'ho commissionata, è stata l'ho commissionata al signor GoStream che si è offerto di realizzarla in cambio di quei famosissimi template che servono a fare l'upgrade per gli oggetti in edelriti. Per quel che riguarda, per quel che mi riguarda, sono gli oggetti più rari che possiamo avere in questo server e quindi purtroppo ancora non sono disposto a regalarli, tranne magari qualche rarissima eccezione. Leggientemente si è offerto, mi ha detto, dai, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? In cambio dell'elitra mi ha costruito una bellissima farm di slime nello spot che avevamo individuato, come ricordate, tantissimo tempo fa che funziona perfettamente, tra l'altro. Adesso non abbiamo più problemi di slime. Poi ha detto, c'è qualcos'altro che potrei fare per i famosissimi template e gli faccio, vabbè, ci sarebbe una farm di guida e scheletro dato che abbiamo già provato quattro volte a farla e ancora non abbiamo avuto risultati o meglio, ieri in realtà mi sono accorto che funzionicchia poco, ma funzionicchia. Quindi ho detto, vabbè, dai, lasciamo stare. Se ti va, potresti ripetere questa farm di creepers che abbiamo fatto all'epoca, abbiamo costruito io e Antonio. Però me la devi fare di tre strati, anziché uno. Anche perché qua siamo in parecchi che comunque stiamo utilizzando polvere da sparo e carta, quindi mi sembra giusto averne di più. Io sto facendo un sacco di scorte, però non sono mai abbastanza, non sono mai abbastanza. Quindi credo che una farm di questo tipo sia l'ideale, insomma, eccoci qua. Allora, parli del diavolo e spuntano le corna. Benvenuto, caro Gostrino, ben trovato. Stavo giusto parlando di lei. Non so se mi stia sentendo, non so se le siano infischiate le orecchie, però stavo giusto raccontando ai nostri amici lo scambio che avevamo fatto, praticamente, eh. Chiediamo subito se mi sente. Chiediamo subito se mi sente. Qua abbiamo già l'inventario pieno, a quanto pare. Quindi, eh, tanta roba, tanta roba. Ed eccoci qua a raccogliere il grano, signore e signori. Come potrei gestire sta cosa? Eh, ho proprio un inventario pieno. C'è le shulker box, usale. Sì, sarebbe anche un'ottima idea, voglio dire. Anche perché è un peccato non utilizzarle, no? C'è le shulker box, usale. Eh, usiamole, usiamole. Usiamole. Eccoci qua, pronti per un pomeriggio all'insegna del... del raccoglimento di tante cose, tante cose. Tante cose, tanto grano, più piatto. Tanto, tanto, tanto grano, eh, visto? Secondo me sono fischiate le orecchie, il signore. Go stream, eh. Potrebbe essere. Aspettate che quando vi fischiano le orecchie vuol dire che c'è qualcuno che vi sta pensando, che vi sta nominando, no? Potrebbe essere, potrebbe essere. Vediamo se qua possiamo mettere ancora quel cosino, certo che sì. Succa, è succa a te. Succa a te al limone. Adesso la sento. Buongiorno, benvenuto. Buon pomeriggio. Stavo proprio parlando di lei, mentre... dopo che si è... cioè, mentre... prima di vederla collegare al server, stavo proprio parlando di lei. Stavo spiegando ai nostri amici di questo scambio che abbiamo fatto, sia per quel che riguarda la farm di slime, sia per quel che riguarda la farm di... polvere da sparo. E' fatica, e' fatalità, mi si è collegato, eh. Ha già provato la farm di creeper a due piani. Ma come a due piani? Io ieri sera, quando lei è andato via, l'ho provata, ma era già un piano. No, non l'ho provata. Devo assolutamente raccogliere tutto sto grano qua. Volendo faccio anche il terzo, ma non ho abbastanza legno. Il legno è per cosa è fare... per fare cosa, scusa, le slab? Ah no, le botole. Adesso sono due, ma dai. Vabbè, guarda... il legno glielo posso farmare, io. Eh, glielo devo farmare più che altro, non è che ho soluzioni. Però non so se lei abbia un po' di pazienza, perché vorrei finire sto lavoro qua prima. Oppure se lo vado a prendere, insomma, dai, le ho procurato tutti io i materiali, un po' di legno potrebbe prendersi anche lei. O no? Ma mi fa molto piacere, funziona? Ma sì, la posso finire più avanti. Sì, sì, no, beh... Prima la finisce, meglio è per lei, più che altro, eh. Tanto già ne fa tanta, bello, bello. Non vedo l'ora di provarla. Sì, spiegavo proprio giusto questa cosa qua, che ultimamente stiamo adoperando tanto... C'è tanta polvere da sparo e non solo io e quindi ci sta, ci sta. Poi io mi metto lì a farmare, farmò per tutti ovviamente, però... se c'è la possibilità di duplicare o triplicare addirittura il quantitativo ottenuto nello stesso tempo, insomma, già molto meglio, molto meglio. Quindi mi fa molto, molto piacere. Ma quando è che l'ha fatta, quando è che ha fatto i due piani? Quando è che gli ha fatti i due piani? Cioè, quando li ha finiti stanotte? Ah, ah, dice. Perché ieri l'ho provata, ma era ancora un piano, infatti era uguale a quella che ho costruito io con Antonio. Ieri sera? Ma tardi allora. Sul tardi. Ah, sì, non mi ricordo ieri sera che ero staccato. Staccato presto, sicuramente, eh, però è abbastanza, dice. Ma non dormite voi. Cioè, non dormite voi la notte. Voi ragazzi giovani e prestanti di questi tempi. Eh, lo so che se ne fa molta. Se ne dovrebbe fare tanta di più ancora, eh. Manca l'ultimo strato. Io glielo farmo il legno, guardi, se vuole. Glielo farmo subito anche, guarda. Non voglio neanche vederla a due strati, quella farmlì. La voglio vedere direttamente a a tre. Eh, infatti ho fatto tutti gli stramutamenti tra le varie casse. Non so come si dica. Mh, che senso? Ah, cioè, tipo, ha collegato più casse per il stoccaggio. Stramutamenti che è. Esatto. Ok, ok. Bene, bene, molto bene. Beh, vuoi dimmi che si riempie proprio così tanto. Sarebbe interessante capire AFK senza quel discorso lì del click automatico. Cioè, solo aspettando che morissero loro. Quanta se ne fa, ma se ne fa poca così. Cioè, è più facile fare, è più facile fare con il saccheggio 3, alla fine. Il saccheggio 3, se ti metti lì e cadono, ne cadono veramente così tanti. Alla fine si sta. Andiamo a vedere, perché mi sa che si è ammessi male. Servo mi campfire, sì, è vero. Sì, no, ma, cioè, ne avevamo già provato. Alla fine ne ho una quale, non so se l'ha mai vista. Questa qua... Questa qua è la prima farm di polvere da sparo che ho costruito. Anche questa è scalabile, ovvero si possono fare un sacco di livelli. E te ti metti là sopra, tranquillamente, vabbè, come al solito. Aspetta che accettiamo. Sono andato un po' più lontani adesso, però, vabbè. E niente, vabbè. Questa qua, comunque. Spero non sia caduto nel vuoto, ma in teoria... Dov'è la farm? Qua qua. Lei dov'è più che altro? È qua la farm, guardi. La prima farm che ho costruito. Venga in piazza o dove c'è la zucca. È che l'ho accettata mentre ero in volo, praticamente. La farm è questa. È vicina alla farm di legna. La farm di legna la utilizzo solo io, sappiatelo. La farm di legno lì la utilizzo solo io perché... Cioè... Lasciamo perdere, va. Me l'avete già scassata. Questa è la prima farm che avevo fatto io di polvere da sparo, prima di fare, dopo quell'altra. E funziona proprio qui, campfire, questa qua. Però ne fa veramente poca... È la classica, sì, sì. Con i gatti, tra l'altro. Sì, tu devi star là ore e ore e ore per fare proprio qualche stack. Ne fa poca, sì. Anche qua avevamo pensato di fare più strati, però poi alla fine anche no. Anche no. Se vuole facciamo un giro a magazzino e... Non stavo controllando se mi stava correndo sulle culture, ma ho visto che lei è un bravo ragazzo. Se vuole facciamo un giro a magazzino, vedo se ho del legno da poter darle subito, ma credo che siamo arrivati proprio agli sgoccioli. Siamo arrivati agli sgoccioli, cioè ne ho farmato tantanto, ne avevamo tantino. E adesso purtroppo non ne abbiamo più. Veramente? Cioè, ho usato tutto? Tutto. Mamma mia, raga. Si è messi male, eh? Si è messi male col legno. Tutto. Ho usato anche il mio. Pensa a te. Guarda, qua non c'è niente. Di casa mia che avevo farmato. Qua non c'è niente. Qua poco fa poco. Neanche abete proprio, cioè ero pieno di abete. E anche abete, no? Non c'è più niente di abete. Non c'è più niente. Basta, fine. Eh, ciao. Non c'è nulla, caro mio. Non c'è più nulla. Vabbè. Dai, ti farmo un po' di legno io. Farmo un po' di legno io, dai. Possiamo così. Se ti va. Niente, no, grazie a te. Vado a recuperare il bottino qua intanto. Che legno farmiamo? Beh, è più facile, alla fine. Lo potremmo provare a farmare anche l'abete. Che forse ne viene un po' di più. Dovrebbe servire una shulker full. Dio boy. Di cosa? Di log? No, di log, spero. No, di log. Di stack. Dio boy. No, vabbè. Ma cosa ne deve fare, scusa, con tutta quella roba lì? Cioè, per fare quelle botole? Perché le botole sono abbastanza care, in effetti. Per fare quelle botole? Porco Giuda. Ma scusa qua. Mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea. Facciamole in ferro, le botole. Esistono le botole di ferro? Le facciamo di ferro, le botole. Tanto l'importante è che siano botole. Eh, le facciamo di ferro. Ah sì, guarda che qua ferro... Qua ferro non abbiamo mica problemi di ferro noi. Assolutamente. Quindi sa cosa le dico? Le faccio tutte le botole di ferro. Se per lei va bene. Ma che finire? Ma che il ferro non è mai finito? Qua c'è una bellissima farm di ferro. Enorme, eh, che ci è stata donata da Popo Soft. Qua il ferro non è mai finito, caro Gostrino. Dopo che ho aggiustato 25.000 volte la mia e non andava più. Qua io sono autorizzato a raccogliere tutto il ferro che voglio. Quindi poi ti metti qua un'ora, questa è qua tutta la vita. Facciamole di ferro queste botole, dai. Come si fanno le botole di ferro? Così? No. Così? Botole di ferro. E abbiamo risolto il problema. O no? Abbiamo risolto il problema con la logo stream. Quindi si prepari, che tra poco le porterò un bel po' di botole di ferro. Eh, il legno lo farmeremo comunque. Un giorno mi metto lì o anche più tardi a farmare legno, tantissimo legno, per riempire nuovamente le ceste di tutti i tipi di legno. Però adesso, caro mio, noi non abbiamo mai più problemi di ferro. Per questo ieri quando mi ha chiesto due pezzettini di legno le ho portato uno stack di blocchi di legno e mi ha detto me lo faccio bastare due anni e mezzo, eh. Mica peraltro. Magari il ghost stream sta bestemmiando adesso. Eh, guarda, sto sclerando per fare sta farm. E te credo? Per te credo? Perché sono esploso venti volte. Ah, lì bisogna stare un attimo attenti. In effetti bisognava magari non farla neanche partire la farm prima che fosse finita. Perché immagino che ho dovuto sistemare, immagino. Però se lei mette... Eh, vabbè, ormai tanto. Puoi anche costruire uno sbatti, lo so. A chi lo dice? A chi lo dice? Allora... Facciamo... Allora, uno stack di... Adesso penso, secondo me, le bastano già, ste botole qua. Secondo me, ste botole qua, le bastano già. Vediamo se sono capace di andare a piedi ad affarma. Cioè, a piedi in volo, più che al, più che a piedi. Che qua tra poco non utilizzeremo più il teletrasporto, quindi io mi devo... Cioè, io non lo utilizzerò più. Devo iniziare ad abituarmi. Però... So già che potrebbe essere difficile. Adesso qua c'è la farm di Ride. Teoria. Eccola qua. Emo? Emo so... Emo so cacchi. Non so se sia da sta parte qua. Dovrebbe essere da sta parte qua. Vediamo, vediamo... Un po' più in qua, forse. Eccola. No, questa è la farm di dischi. O di mob in generale. Però dovremmo esserci... Dovremmo essere abbastanza vicini anche a quell'altra, in teoria. Forse. Mica tanto. Mica tanto. Devo segnarmi le coordinate, dai. Eccola. Eccola. Eh, ci sono arrivato. Ci sono arrivato, ci sono arrivato, raga. Ma come a due strati? Ma come a due strati? Ah, perché li chiude? Ma scusa. Ah, perché li chiude così? Ma dov'è lo stream? Do sta a costri? No, non li chiudo. Sì, sì, no. Nel senso, ora ho visto lo strato. Capito com'è? Dov'è? Forse è giù di qua. Sono giù. Eccolo. Salve. Dove si farm? Come calpestano, eh? Ma siamo sicuri, sì, che produce di più. Adesso mi viene il dubbio. Sì, 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 sì. Sì, sì. Allora, io le ho portato queste botole qua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette stack, credo, possano bastare. No, per il disturbo le lascio anche... Madonna, quanto ferro che ha a lei? Ma dove ha preso tutto sto ferro? Comunque per il disturbo le lascio anche questo ferro. Che senso è fatto la base qua, Agostrino? Vuole vivere qui? Aia, 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 aia. A rivederla, a rivederla. Stavo caduto per sbaglio, in realtà. Comunque sì. Dato che abbiamo un po' di... Abbiamo avuto quest'idea geniale. Torno a farmare il grano e poi... E poi verremo a testare sta farm. Ma voglio un attimo aspettare due secondi, vedere se già c'è, si nota un po' di differenza rispetto a quanto cadono. Comunque se vuole può già farmare. Sì, sì, no, lo so, è che adesso non mi metto a farmare. Sì, no, sembra che ne cadano molti di più. In realtà. Pare, eh. Come mai ne scendono così pochi? Vabbè, ci fidiamo ovviamente di go stream. Dai, se ha bisogno ancora di qualcosa, me lo dica, non c'è nessun problema. Io credo che si bloccano molti, mi sa. E come mai si bloccano? Ma le ha messo l'acqua. Non ha messo l'acqua, se si bloccano. Devo fare che il terzo piano. Ha messo l'acqua, sì. Le slab a terra le ha messe pure, eh. Sì. Vabbè. Buon lavoro, caro Gostrim. Che lavora di giorno e notte, lavora. Giorno e notte. Sotto questo cielo stellato. Buon lavoro, buon lavoro, caro. Arrivederci. Arrivederci. Riuscirò io a tornare a casa, secondo voi? Ma. Lo può vedere dentro? Sì. Voglio, voglio. Ma sì, chi è che entra? Dico da sopra, certo. Se, se trovo, se li trovo, dovrebbe essere di qua. Eh, perché adesso c'ho i chunk bassissimi. Ma sta mettendo pure i golem? Sta mettendo pure i golem tre volte, sì. Non pensavo servisse. Non pensavo servisse mettere il golem. Secondo me non serviva neanche. Si sposti? Sì, mi perdoni. Secondo me non serviva nemmeno mettere il golem anche qua. Oh, sì. Ripetere tutto, secondo me, sì. I golem, ma cosa serve? A spaventarli? Altrimenti si incastrano il doppio. Vabbè. Mi portate che mi chiede che faccia un per tre, insomma, che fa un per tre. Intanto, buon lavoro. Anch'io torno nei miei campi a lavorare. Sai che ti dico? Che finché posso lo uso il teletrasporto. Eh, dopo, dopo. Comunque devo dire che è stato relativamente veloce. L'avverto quando ho finito. Va bene, va bene. Oh, voi non lo dite a nessuno, però in realtà il signor GoStream non lo sa che io non gli darò nemmeno uno di quei template lì. Lui non lo sa, voi non dite, però io... gli ho fatto uno scherzetto in realtà. Gli ho proposto uno scambio che non avverrà mai, ma vi pare che gli do tutti quei template lì per una farm? Dai, su via. Non glielo dite, eh, mi raccomando. Non glielo dite. Ma vi pare? Allora, no, scherzo, anzi, ci mancherebbe. Te ne do uno, te ne do, poi ti arrange a duplicarli. Non me lo dovete dire. Esatto. Allora, no, sto pensando al fatto che io non spero di riuscire a convertire la farm di barbabietole in farm di grano. Perché siamo a corto di grano, raga, cioè voi dite grano, 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 sì, grano, eh, è molto importante in questa nostra economia. E siamo sempre a corto anche di grano, cioè. Ormai siamo diventati dei agricoltori pro, pro player, però. Ce n'è sempre poco. Io voglio vedere le casse piene di grano. Eh, abbiamo un bel po' di animali più che altro da sfamare, sì. In due minuti. Cosa vuol dire in due minuti? Oh, ho capito. Mi raccomando, intanto voi iscrivetevi al canale, lasciate un like, un dislike. Ah, i creeper, bene, 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 bene. Ottimo, ottimo. Attivate tutte le campanelline e ricordatevi di splendere, come sempre. Se volete entrare a giocare, scrivetemelo nei commenti e vedremo di fare il possibile. Mi raccomando, eh. Altro che città. Stiamo ancora coltivando i campi, qua. Dobbiamo fare una mega farm di grano. Ma automatica, però. O semi-automatica. Ma è quindi, ma caro GoStream, lei adesso ha l'elitra. A breve avrà pure, come dire, l'aggiornamento in nederrite. Basta, cioè, non potrò più commissionarle nulla. Un vero peccato. Infatti stavo pensando ieri, ma dopo questi qua, cioè lui ha tutto quanto. Non mi chiederà più di fare dei lavori in cambio di niente, perché non c'è. Hanno tutto, cioè, avete tutto, raga. Di tutto e di più avete. Servirà sempre qualcosa. Dice? Non lo so. Però, sai che ti dico? Che vado ancora alla farm qua. Ma comunque le darò comunque una mano. Certo. Me lo auguro. Ora solo in caso di scambi, eh. Hai capito. Beh, che scambi, cioè, ci ha guadagnato un sacco alla fine, eh. Ci ha veramente guadagnato un sacco, perché comunque... Su tutte robe che ha fatto lei, che ha costruito, ma su tutte robe che potrà utilizzare, che le tornano comodo. Altro che quello da economia circolare qua. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Dove stanno i nostri amici? Qua. Vediamo se per caso ha usato i semi. Beh, gli ha presi i semi, però. Io continuo a darglieli. Ho sonde esponati, ma dubito. Io continuo a provare a darglieli. Perché uno di grano me l'ha fatto, vede? Non so se è caduto per sbaglio, però uno me l'ha fatto di grano. Sì, ma lei dovrebbe vedere dal vivo lo sclero per fare le farm. Io, caro Ghostream, e molti sono... Beh, più delle farm le ho fatte off-live, però guardi che io ho bestemmiato ore, 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 ed ore. Ed ore ancora per fare tutte le farm che abbiamo in questo mondo. E mi creda che ne abbiamo parecchie. Cioè, ci sono veramente tante farm qua all'interno della Mesopotamia. E sappia che... Un po' contrasta e un po' da solo. Ne abbiamo bestemmiato ore, ore, su ore. Quindi so che cosa vuol dire, non si preoccupi. Mica la mando a fare i lavori... I lavori sofforzati senza averli fatti prima io. Ma adesso, secondo lei, caro Ghostream, che farm... Che farm è che ci mancherebbe qua? Che potrebbe essere utile? Perché qua di farm, ce ne sono ve ne abbiamo anche di piccole, per dire. È di figa, bravo. E lei, vedo che ha capito un bel po' di roba. Durante tutto questo tempo in cui è mancato. Mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. È diventato grande, il signor Ghostream. Bravo, bravo. Io mi dissocio, eh. Io mi dissocio, ovviamente. Ma vedo che ha capito, che ha capito molto. Ha capito il giusto, ha capito il giusto. C'è quello che c'era da capire, l'ha capito. E vedrà che andremo d'accordo. Vedrà che andremo molto d'accordo. Bravo, bravo, lo stream, bravo. Complimenti. Complimenti. È proprio così che noi li vogliamo, i nostri collaboratori. Sì, sì, no, beh, non voglio scendere nei particolari, mi perdoni, eh. No, non mi sembra nemmeno il caso, eh. Non si preoccupi, io la credo e non voglio saperlo, grazie. Grazie mille, però. Sono un bimbo cresciuto, eh, sì, sì. No, no, ma ci mancherebbe, non si deve preoccupare. Non si deve preoccupare. Ok, siamo ancora, siamo ancora vuoti qua, cioè, siamo ancora pieni. Facciamo così, facciamo così. Così, facciamo così, e così. Ecco qua. Io ho messo già a dimenticare, se avevo fatto il tempo a dimenticarla pure. Veda lei, veda lei. Allora. Andiamo avanti, dai, non perdiamoci in chiacchiere inutili. Serve una bella farm di grano, automatica, automatica è impossibile. Però magari semi-automatica. A proposito di semi, quella posso, la posso fare in poco tempo, ma automatica. A proposito di semi, guarda cosa vado a fare, mi sa che è semi-automatica. Tipo come questa qua, guardi che farm che ho io qua. di verdura, ultimamente ci stavo mettendo le patate. Tipo questa forse intenderei. Eh, ci ho messo le patate, infatti. Però, adesso voglio provare a seminare del grano, dato che abbiamo semi. Qua basta fare così, fai partire l'acqua. Vedi? E raccogli le patate. Fatto è che bisogna, eh, poi, seminarla. Cioè, non è che si semina da solo. Tipo quella ma in grande. Esatto, sì. Questo è un progetto piccolino. E sarebbe figo avere una super farm così però gigante, infatti. Ah, qui, villager, ma dai. Ah, allora non lo so. Allora non lo so. Ma produce tanto grano. Quella è automatica. Eh, ma tra l'altro adesso io, ce l'ho anche quella farm di villager piccolina, eh, che fa barbabietole. Sto cercando di saturarli di semi, di grano, proprio per vedere se per caso il ritorno alla schiavitù, pratica. Eh, sì. Ma che schiavitù? Noi, i nostri collaboratori li paghiamo e li abbiamo sempre pagati, quindi non gli sembra proprio il caso di dare questa definizione, insomma. Ma che schiavitù? Madde che, madde che. Sberaldo al mese. Ah, uno all'anno. Uno all'anno. Allora, questa è una. Vabbè, sa già cosa dovrà fare dopo la farm di... di polvere da sparo. Caro Gostrino. Bravo, bravo. Questa è una e questa è l'altra. Questa qua dove sto cercando di venire a... a convertire, però. Eh, ieri ho tolto le rape. Secondo me il tipo qua è pieno. C'ha l'inventario pieno, perché sapete che loro hanno un inventario. E ce l'hanno pieno. È ancora pieno di rape questo qua. Questo c'ha ancora l'inventario pieno di rape. Adesso noi ne li togliamo. Seminiamo ancora il grano. Mi sa che... non mi bastano i blocchi di Deep Slate. Adesso dice... Vabbè, ce n'è tantissimo a magazzino. Adesso glieli porto. Sì, sì, adesso gliele porto. Mi dia due secondi. Che proviamo anche qua a mettere grano. E gli lascio giù anche qualche seme. Questa è automatica, è di cibo, però... sarà pieno sicuramente di barbabietole, quindi... che non ho mai capito il meccanismo col frecciaio qua in mezzo, però funziona. Loro scambiano col frecciaio e... Boh... Ok, allora, lasciamo anche tutti sti semi. Tenga. Li usi. Prendiamo i blocchi, lasciamo il grano. Lasciamo qua il granino. Mamma mia, siamo un po' poco. Mi si male. Te l'avamo. Mi si male adesso un po'... Scusate, un po'. Ne abbiamo raccolto comunque. E lo raccogliamo tutto, attenzione. Tutto, tutto, tutto che perché voglio riempire qua è anche la dispensa. Sia di grano che di pane, tra l'altro, la dispensa, quindi... Ok, portiamo i blocchi. Semi, mi sa che qua sono pieno, non ci sta più nulla, infatti. Eh, vabbè. Mettiamoli di qua. È giunto il momento di fare il nuovo magazzino, raga. Nuovo magazzino, è giunto il momento di fare enorme e gigante perché siamo full ormai. Allora, qua si servono questi. Madonna, se ne abbiamo usati però, eh. Volevo fare la live di trivellazione, oggi però poi ho detto no, aspetta, meglio procurare prima il cibo. Ok, sto arrivando, eh. Sto arrivando, vengo in volo. Devo abituarmi, devo abituarmi. Per forza. Se mi ricorderò la strada. Eh, ma più la faccio, più me la ricordo. Qua c'è la farm di Elide, ora dobbiamo andare in questa direzione. Esatto. Ancora un po' in questa direzione. Dovremmo trovare la farm di mob misti, eccola qua. Molto interessante, fatta solo e disclusivamente per collezionare tutti i dischi. E adesso qua dovremmo già esserci, praticamente, no? Dovrebbe esserci, dovrebbero esserci le farm di... polvere da sparo. Do stanno. Eccola. E guadà, salve. Pare che bella tutta in ferro, peccato che dopo venga coperta. Giorno. Come va, come va. Come va qua. Mamma mia quanti ho. E guadà che cadono, eh? Ti lascio pure nel shulker. Ah, sì, lascio tutto qua. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici stack. Dovrebbero bastare. No, 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 no. No, 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 via, 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 via. Mamma mia. Stavo facendo il macello, stavo facendo. Stavo facendo esplodere tutto. Brutta idea, eh? I fatti. I fatti. Io l'ho seguita, ma... meno male siamo stati un po reattivi dai quindi questo è l'ultimo strato cioè l'ultimo, il penultimo stavo sì, no infatti sì allora questo è il terzo poi manca il quarto e il quinto teoria giusto? no mi spara addirittura arrivederci grazie sarà un peccato abbandonarla questa però sai com'è? sai com'è? vuoi mettere una a cinque piani rispetto a una a uno dai torniamo a lavorare va torniamo al lavoro allora andiamo a dormire andiamo a dormicchiare un nuovo magazzino dovremmo costruire per forza raga c'è poco da fare enorme non credo automatizzato perché non mi va non mi va di farlo automatizzato però sicuramente saranno solo shulker box questo è poco ma sicuro cioè non userò ceste, robe sarà tutto super tecnologico shulker box vediamo se riesco a trovare la strada maestra per il borgo nuovo dove eravamo rimasti qua abbiamo fatto tutto mancava questa fila filetta ok e qua siamo a posto ora saliamo qua sopra facciamoci questo questa è stata la prima coltivazione che abbiamo proprio fatto in assoluto all'inizio non era così c'era tutto un po più casuale il discorso tutto buttato la poi pian pianino io ho fatto anche tutti i terrazzamenti poi qualcuno non sono piaciuti hanno hanno cambiati però tanta roba raga davanti a me potete vedere la magione di popo soft la casa del nostro caro amico che ci ospita il server tra l'altro a casa sua mica di quei server la online mica pizza e fichi qua è tutto sicuro super sicuro a prova di hacker tra l'altro ci avete provato in molti qualcuno seppure è riuscito a guastare le feste però adesso troppo per voi cari miei non avete scampo c'è il backup ogni ora quindi potete fare quel cacchio che volete parte che sarà difficile anche che farvi entrare però sappiate che c'è il backup a tutte le ore quindi sai come sai come è proprio noioso raccogliere il grano però ne allo stesso tempo è anche abbastanza rilassante dovevo preparare tipo una live di asmr solo raccogliere grano c'è una fila infinita di grano facciamo 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 ok tra l'altro se io zappo e se invece tengo i semi sulla mano destra in teoria posso fare tutto in un solo colpo in teoria siamo capiti insomma avete capito quello che voglio dire ok abbiamo tutta questa zona qua adesso da fare che non è molta dobbiamo finire quella di piccolina sulla mia destra questo poco che rimane altrimenti poi va a male insomma non mi sembra il caso di lasciarlo ok manca questo pezzettino qua ma non può non c'è andava il grano anche questa fila mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like un dislike un commento un insulto attivate tutte le campanelline linkatemi le vostre farm di grano migliori e preferite magari automatiche sarebbe anche meglio ma mi sa che dopo la facciamo la facciamo la voglio fare voglio fare la farm di grano automatica o semi che ne so però il gigante deve essere no piccola perché idealmente tu una volta al giorno il grano qua lo puoi raccogliere quindi non è che però sai che con un'automatica risparmi molto più tempo più che altro dico io è quanto ne sto lasciando tra l'altro a terra non va bene così i semi me ne bastano uno stacca uno stacchettino un più sentito costrima sarà è stato fatto esplodere a qualche clip oppure sarà bestemmiando non credo secondo me si sta divertendo perché sta già pensando al risultato finale sta già pensando il premio finale vedi come li motiviamo noi i nostri collaboratori raga non li motiva nessuno sto avendo molta pazienza e lo so lo so lo so ma sono felice del mio lavoretto e te credo fatto un lavorone lì che lavoretto il lavorone anche se secondo me i pupazzi di neve andavano solo al primo strato in maniera tale che tutti gli altri creeper ne fossero attratti però tanto funziona in un modo funziona nell'altro cambia poco però magari mi sbaglio è ancora non c'è ma io non avevo sistemato tutto con la scusa ma scusa non avevo fatto sto lavoro ne sto raccogliendo talmente tanto che si ma si sistemano ma perché questa roba si mi sistema da solo e cosa qua ahiaiai no bene no bene vabbè togliamo dei polli tanto non funziona non è anche così già bisogna le diamo a mano sti cornuti riproducetevi riproducetevi via ok ci manca questo pezzettino qua no al corallo che strano baba sto pensando di alimentare abbiamo aggiunto degli ottimi plugin che però devo ancora capire che le mie tecniche adesso non posso più riprodurla nel senso che se io smezzo questo vedi non me lo smezza cioè me lo fa tornare in automatico forse devo togliere l'auto cosa automatico vediamo disabilitarlo c'è già disabilitato l'automatico shift click middle click double click forse questo dovrei forse questo dovrei disabilitare però lasciamo stare teniamolo d'occhio faccio così teniamo d'occhio ma che non sto qua ti può raccogliere per nulla raccogliono me lo raccoglie quello il fatto sì sì sto raccogliendo ma il fiorellino no il fiorellino no signorina amary j kelly buonasera benvenuta ben trovata buon inizio anche lei di settimana beh buonasera si è buio cioè buio qua non so da lei però a casa mia è buio e abbiamo raccolto anche quasi quasi tutto questo grano molto bene ahia abbiamo visita abbiamo visita abbiamo visita perché proprio adesso tra l'altro tornata al lavoro l'urco mentre apro sinistri molto bene molto bene molto gentile orari strani questi qua però in realtà magari qualcuno possono anche piacere tipo lei tornata lavoro oggi o adesso cioè vabbè la lascio lavorare allora tu mai troppo rotto le scatole quella e proviamo lasciarli la al momento non c'ho voglia di fare ride vari ma oggi oggi è tornata bene bene sarà contenta no le carote caspita sarà piangerà dalla gioia probabilmente guarda rivolso da che mi aspettano sulla che mi aspettano credibile tocca a fare un ride che dice voglia di farlo io no adesso ok è stato fatto saltare in aria da un clip del nostro go stream un vero peccato no sì stavo quasi venendo a farle visita detto perché andiamo a vedere come sta invece sta male ancora aia 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 io non la voglio sapere sta roba vediamo sequena aia ha bisogno di aiuto forse sa che ha bisogno di aiuto il nostro amico mi sa proprio di sé non ci credo tutto il lavoro di mezz'ora buttato all'aria vero peccato cioè mi dispiace ma più a me che a lei veda lei e da lei allora abbiamo raccolto tutto il grano nel momento ma non è finita qua perché abbiamo anche questo abbiamo anche questo qua da raccogliere altrimenti poi va troppo avanti capito e sicuramente dovremmo inventarci qualcosa per i semi perché andiamo a vedere come sta costrima dai perché non abbiamo più spazio per mettere i semi non c'è più spazio raga fine 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 bisogna organizzare il magazzino come va lo stream mamma non voglio neanche sapere andiamo a vedere dai andiamo a vedere mi faccio anche una tisana adesso troppo è esploso tutto di io caro però c'è c'è dai però teoria le botole di ferro dovrebbero tenere di più ma tutto tutto ma tutto 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 no tutto no tutto speriamo di no però insomma posso immaginare metterò delle frecce tipo sul mare di lana colorata tipo che indicano la via o dei cartelli proprio amare dobbiamo metterli sì adesso qua da qualche parte dovrebbero esserci le altre farm qua eccole le navi spaziali beh dai neanche tanto tutto esploso dai forse lo stago stream non sotto dice aia sotto no aia sotto va bene sotto e semplice anche da mettere a posto in realtà è la fame esplosa e succede successo anche a me perché gli ha guardati negli occhi non so cosa ora ho riparato sì sì o non so che blocco ha tolto qualcosa li ha guardati negli occhi questi esplodono e si è l'ho stoppa what non ho capito l'ho stoppata ah tra l'altro ho riparato ho riparato il portale del drago lì la farm di guida rose e di stelle e di stelle del nether l'ho riparata ieri e funziona poi vi farò vedere un giorno come funziona se avete bisogno di b con robe adesso possiamo avere perché vorrei mettere vari b con insomma quella dato che me ne avete fregati tanti mi sono morti tutti i pupazzi aia che peccato tutti proprio dovrà rimetterli tutti mamma mia io non vorrei essere nei suoi panni proprio allora qua ne vedo che da sotto tipo lanciano vuol dire che da sotto qualcuno si è salvato forse ai 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 beh penso che non abbia bisogno blocchi di neve ne ha dovrebbe avere tutto me l'ho fatto morire tutti i pupazzi poi me l'ho fatto morire i pupazzi mi perdoni aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai aiutoi 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 tanta pazienza eeeh serve tanta pazienza si ah sono esplosi pure loro beh insomma poi devo dire che avanzerà un bel po di materiale da questa questa farm ha visto che anche lei sta esagerando dice aspetta devo fare delle inferiate me ne servono 5 ne facciamo sei stack giustamente tanto poi comunque vengono sempre buone va vabbè dai caro questa è sua ok le auguro un buon lavoro il resto porto tutti in magazzino ma può anche tenerselo a parte che è uguale buon lavoro no ho sbagliato a craftare in quel caso meno male meno male arrivederci arrivederci signor questo lino aia no no via da qua via d'acqua via da tanti saluti e come ora è come ora lo stream con l'elita che gli ha donato i papi vabbè torniamo a casa che è meglio torniamo a casa andiamo a vedere un attimo sto discorso del grano si vado dritto se vado dritto dove mi ritroverò all'isola che non c'è no no tutti sti punti assurdi faccia lo sto qua vabbè facciamo così finché mi è concesso sicuramente posso utilizzare teletrasporto allora poi grano abbiamo formato veramente poco devo dire è stato stato fatto saltare in da un clip ottima ancora poco a questo grano dobbiamo vedere qua ma questo lo possiamo raccogliere intanto cristo santo ma sì cristo santo sì questo caso è poco santo direi questo caso è poco santo ma molto no non possiamo dirlo non ci permetteremo mai dire certe assurdi assurdità anzi saltato tutto in aria c'è un modo come che posso fare per aiutarla per tenere lontani il clip non crede non credo cioè non credo mannaggia lei dice cosa deve fare deve mettere torce deve mettere torce ovunque finché non è come fa fermarla ecco le torce per forza cioè non alternativa poi quando tutto sarà pronto parte dal basso pian pianino le toglie tutte fino ad arrivare sopra allora quella di farme che abbiamo fatto di di mob misti dove anche ci sono clipers avevamo fatto un circuito di reston e c'è una leva che ti permette di azionare o meno l'acqua in questo caso azionare o meno l'acqua però deve lasciare un casino assurdo ma dai sono usciti è uscito un bel po di grano anche da qua il rischio di latte se lo portiamo a casa ce lo portiamo a casa tutto di tutto e di più abbiamo anche quello intorno alla farm di creepers volendo numero uno da raccogliere non fare una roba figa lo raccogliamo tutto così capiamo anche quanto riusciamo a produrre cosa cosa è successo scusa non c'è acqua eppure boh babà il rani non attaccano di giorno bravo rimani lì non attaccare non attaccare ok questo l'abbiamo raccolto ne abbiamo un po anche qua mannaggia quanta roba ma che qua c'è un pesciolino chissà come c'è finito e forse durante il nubifragio l'ultimo nubifragio che abbiamo avuto ma che sta di fabio che sta dietro le rane visto dove stanno le rane tutte qua intorno su tutte qua le rane per forza quando è esploso tutto anche a me quando stavo facendo quell'altra farm di sotto nel punto di raccolta prima di capire che dovevo tappare i buchi e non falli e non farli scendere sa quante bestemmia quante volte che ho dovuto rifare tutto quanto poi tappando il buco ovviamente i creeper si fermarono sempre prima invece quel caso di bella merda una bella merda costrima però sono i rischi rischi che abbiamo valutato io li ho valutati spero che lei insomma non per niente non per niente insomma il premio è molto la ricompensa è molto forte molto importante avevamo detto cosa tipo che le do uno stack di diamanti giusto per sto lavoro qua con due stack di diamanti non mi ricordo mi faccia sapere grazie no erano due stack ok ok ma perché ogni tanto soffro di amnesia due stack erano molto bene adesso tanti due stati diamanti è ma io sto raccogliendo il grano o sto facendo finta sono dieci stati diamanti auto template stracchine rite è un dito del piede di okana porco dio no è nel senso ma però ma che ne derite a quella se la va a cercare l'ho perso nell'esplosione il piede agli a le due dita dei chiedi no spero lei abbia zane del rite più che altro che sanno cosa se ne fare i tempi che è un problema che non mi riguarda sì sì l'ho messa in magazzino da me del rite ma veramente ma sicuro di trovarne ancora ma per me c'è per poi che mi riguardano potrebbe rimanere lì anche tutta la vita spero lo spero anch'io per lei parte che non tramite popo soft possiamo anche scoprire chi mette le mani di qua di là su e giù però è una rottura di scatole voglio dire disturbare il sommo per certe bagianate insomma insomma sto raccogliendo grano sì che tu vuoi piccolo pollastrello da quanto è che sto raccogliendo grano porco giù da un'ora e nove minuti a faccia che ci mettiamo poco e se proprio poco ci mettiamo aspetta trasformiamo questo no quello mi segue ma perché sui semi mi serve mangia e mangia ne abbiamo spazio poco però quanto pare non posso più tenere mezzo stack nell'inventario perché affinché si riempia se non posso fare così vabbè fa niente non sto lasciando dei pezzi incolti per il sole show se qualcuno di voi conosce la tecnica del sole show ma mi faccia sapere insomma ok abbiamo un altro grano anche qua le ultime file poi forse andremo a prendere anche quello di alla farm di creepers sarebbe proprio un bel figura del cerchio terminale l'acqua che c'è voglia si deve mettere si deve mettere l'acqua bisogna fare le murette un casincio io si demancio la signorina mary j kelly che strano osside marcio marzo qua e maia e il maiale la bestia proprio invece da voi marzo è uomo quello che ho capito un brodo anche il sovescio è tipo un uomo si mi ha sconvolto in sera perché scusa ma lei perché io c'è un piatto che si mangia qua io non lo mangio adesso mi deve passare un anno prima che lo mangio ancora però alla fine è buono molto buono molto buono come chiamate voi sì sì ma non avevo mai sito chiamare così come ne ho chiamate ossi di maiale immagina col crema e la stessina verde sì beh mi sono rimasti nello stomaco mamma mia che schifo cioè buono sì ma per carità va ma in realtà non so se qua si usa schinco forse allora quello lì adesso forse lei dice stinco o schinco perché stinco di maiale è ancora un'altra roba ancora però non so se proprio schinco non lo conosco schinco conosco lo stinco però penso che lei non abbia problemi insomma a differenziare lo stinco dallo schinco stinco ma indietro se schinco ah ma dai ecco tu sì però questa è un'altra preparazione che non ha che vedere niente con gli ossi di maiale le ossa di maiale schinco ma dai schinco se siamo ok abbiamo raccolto anche questo mettiamo subito magazzino no vabbè io lo evito proprio il maiale vabbè ho mangiato ieri sera ci sta però non sarà un bel po di tempo adesso insomma prima che ne userò ancora ne userò tra l'altro come se messi qua cosa abbiamo raccolto oddio qualcosina abbiamo fatto andiamo a raccogliere anche quello lì alla farm di creepers così siamo a posto vabbè uno strappola regola ma infatti ci sta bisogna perché se no uno diventa stupido che diventi stupido proprio dire questo no questo no questo nuovo vaffambrodo come abbiamo ancora noi facciamo 30 facciamo anche 31 andiamo a raccogliere quell'altro che abbiamo di qua andiamo a vedere nel frittempo la farm qua il nostro mino se per caso si è degnato iniziare a coltivare un po di grano dubito o ne metto uno nel porto uno di nuovo che potrebbe essere la soluzione mi servirebbe l'otto di legno otto log non ne ho o vedi che quel grano lo sta iniziando a fare 8 log 8 di che cosa scusa 8 assi adesso riporto subito slab ti può intendere assi slab vediamo quale del rite cosa ha preso ma questa era quella che avevo già avevo cioè questa è quella che avevo messo io nelle vite mica la messa in magazzino lei questa questa è mia ma no ne ho messo quattro dico dice bob se ne erano quattro vabbè otto di questi qua bene porto 37 viene porto ora 8 spero adesso ce ne sono 9 9 ce ne sono guardi faccio teletrasporto perché non ho voglia di consumare tutti stilazzi ipa lo stream eccolo qua vado a farmi una tisana io ecco qua perfino il legno della giungle ho portato allora dovremmo dedicarci a farmare il legno sostanzialmente per forza per forza perché non ne abbiamo più o via 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 lo stare attenti di sopra perché sponano creeper anche sopra il tetto e occhio che ci sono i creeper io non lo voglio sapere io me ne torno a magazzino allora se avete pazienza e anche se non ce l'avete mi fa mi dispiacerebbe vado a prendere una tisana vado a prendere una tisana voi nel frattempo voi nel frattempo iscrivetevi al canale lasciate un like un dislike un commento un insulto attivate tutte le campanelline ma soprattutto ricordatevi di splendere nel frattempo che mi portano la tisana signori fate queste dolce azioni e vedrete che dormirete meglio e sogni più tranquilli a partire da adesso no no non devono sponare la prego dormi si dormo subito vado a dormire eccoci qua eccoci qua ora mi posso risiedere in attesa della mia tisana arrivo subito abbiate fede abbiate fede abbiate fede abbiate fede Grazie. 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 Tocca. 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 Sto rubando l'intro a tango in nero e attenzione, non scherzo. E fra te poi ho ricominciato anche a piovere. Non è che ha ricominciato, ha cominciato a piovere. Ho riacceso le stufe e siamo pronti per continuare a formare ancora un po' di grano. Vediamo. Chi lo sa, chi lo sa. Ho preparato sta super tisana che non avevo mai provato. In realtà molto molto buona. Molto molto buona. Cocco e... Che citazione sorpresa. Tocca. Tocca. Dai sui passi. Tum. Tum. Cocco e lampone con le dolci note del latte addirittura. Tutti gli appassionati di true crime. Quello vero. Ria al 100%. Mi raccomando potete tranquillamente seguire e ascoltare. Tango in nero podcast. Ci farebbe solo che piacere. Magari la scetta sul cranio. Può essere. Magari potrebbe essere. Non ci avevo mai pensato. Non ci avevo mica pensato. Eh. Ma si figuri. Grazie a lei. Grazie a lei. Chi lo sa. Magari c'è qualcuno che rivedrà questo video che è anche appassionato di true crime. Sarebbe... Sarebbe un onore per lui poter ascoltare tutte queste storie. Allora io secondo me qua non funziona niente. Qua non funziona niente. Cioè. Il grano lui ce l'ha. Però... Vabbè. Niente. Tocca. Cioè. Aspetteremo. Vedremo. Capiremo che cosa scambia. Con... Se quando torneremo troveremo ancora grano o barbabietole. Non lo so. Il signor Gostream come è messo? Dorma. Mi prego. Dormi. Ma non ho dormito prima. Eh. Vabbè. Adesso non so se sono stato 10 minuti. Giù. Sono stato 10 minuti giù. Ci stiamo scollegando. Che sta succede? Che sta succede? Allora. E niente. Tranquilli. Tranquilli. Tutto regolare. Allora quello che mi manca da raccogliere di grano è questo qua. Ma non c'è mica voglia. Però devo. Devo. Vedete? Tra l'altro. Un altro bel lavoretto da fare qua. Sarebbe proprio quello di concludere sto cerchio. Perché è proprio una roba bruttissima. Veramente brutta. Vedi? Quindi. Io. Ahia. Io qua. Eh. Volevo fare tipo una roba circolare. Vabbè. Poi neanche più neanche seminato. Niente. E siamo pieni qua di frutta e verdura pure. C'è l'idea era quella di fare un cerchio qua. Che però è venuto. che è sta roba. Un nuovo. Sembra. Wiggy plouf. Wiggy plouf. L'idea di Pokémon sembra. Comunque. Il grano. Ahimè. Caro Fabio. Te lo devi raccogliere anche da qua. Vedi che avevo anche già iniziato a fare tutto quanto il discorso. Qua. Andiamo un po' a casino così. Casino soprattutto. Perché dove ho messo acqua sicuramente avrei dovuto zappare no. Quindi. Facciamolo. Siamo qua. Un po' un po' i lavori incompiuti questi qua proprio. Eh. Facciamolo. Facciamolo. I classici lavori. I lavori compiuti dal Mason proprio se tutto quanto eh. Ho messo l'acqua poi basta fine. Non ho più. Qualcuno ci ha messo pure. Non lo so. Non lo so. Vabbè. Sicuramente sarà più circolare. Rispetto a prima. Chi lo sa. Chi lo sa. Vabbè. Fatta anche questa va. Et voilà. Andiamo un po' a intuito. Così. 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 E basta. Così. Uno dei primi campi circolari e ultimo anche che ho costruito qua. qua. Insomma dai. Peggio che prima. Meglio che prima. Dorma. Non c'ho modo di dormire. Mannaggia. Anzi no. Oh. Si decida. Dormo o non dormo? No ma dormo. Dormo sì. Dormo anche per me. Guarda che atterraggio che ho fatto. Si è. Ecco fatto. Finiti anche i razzi. Ben finito anche i razzi. Ma come siete messi lì con gli ascolti? Cioè. Quanti ascolti avete? Cioè. C'è una media di ascolti mensile, giornaliera? Io so. molto interessato. A sta roba. Cioè. Quanti. Oppure quante volte. Cioè. Quante volte è stato ascoltato. Diciamo. Il podcast più ascoltato. Piuttosto che. Adesso non so come vengono. Eh. Classificati ad ascolti. Quanti ascolti avete? Avuto. Più che altro. Allora. Riparto da qua. Secondo me. Cioè. Tra l'altro. State già monetizzando. Perché io. Mi becco sempre tutte le pubblicità. Quindi bravi. Tanta roba. Tanta tanta roba. Poi ho visto che siete ovunque. Cioè. Ovunque. Sulle. Pettaformi. Pettaforme. Maggiori. Di. Screaming. Di. 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 Di diamanti adesso. Ahia. 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 Arrivo eh. Allora. Dice. Le statistiche le vede Win nino. Perché è lui che legge tutto l'ambaladam povera stella. Però quanto mi ha detto ultimamente gli ascolti sono sempre in salita. E monetizzazione non certo cifre pazzesche. Ma qualcosa arriva. Bravi. Bravi. Dove sono i miei template. Che template scusi. Di quali template sta parlando mi perdoni. complimenti bravi 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 lei proprio neanche se ne frega dei numeri proprio non interessa proprio niente dei numeri ora andiamo a vedere nostro vostri le faccio esplodere che cosa fa esplodere ma che ti quali template sto parlando ma sì che per te cerchiamo di capire se funziona e tanto anche se no è puntato cos'è che puntato e si va con quell'armatura di mezza armatura di diamante cosa vuole puntare non vuole puntare allora vediamo intanto come funziona cerchiamo di capire se non come funziona quanti ne cadono secondo lei è più produttiva dell'altra cioè ha fatto già due conti di comparazione perché c'è speriamo che speriamo di sì insomma secondo me sì ovviamente che se non ci fosse un cane ad ascoltare mi dispiacerebbe la partecipazione degli ascoltatori rende molto fieri però no i numeri di cavolo relativamente vero va beh ci sta è puntato avevo già provato ha già fatto sì no ma si è già riempito vada si è già riempito mentre di la prima che si riempia ce ne vuole un po è stasera dopo fly non mi metto un'ora qua e sto qua e vabbè dai andiamo a prendere il premio per lo stream anche se non le se non le basteranno quattro lingottini o forse sì forse sì non lo so non credo vabbè andiamo a prendere il premio produce appunto il triplo di quello che produce l'altra sì infatti facendo due conti è normale però volevo esserne certo non ho più razzi nemmeno io nemmeno io nemmeno io ho più razzi pubblicità aia pubblicità vabbè meglio così non veda neanche lo sto però vabbè anche se lo vede anche se lo vede ma fate avete fatto cioè fate qualche sponsorizzata voi marisa i kelly avete fatto qualche sponsorizzata a pagamento per farvi conoscere avete tipo magari che ne so sfruttato magari dei bonus che le varie piattaforme dove caricate i podcast e vi hanno concesso oppure no oppure tutto organico allora template mannaggia i template addio 4 devo dargliene no 1 1 2 2 non ho tutto passo parole questo che questo genere a un buon pubblico che si va anche a cercare le robine nuove e se le passano ma dai bravi bravi complimenti avevate fatto tipo analisi mercato robe del genere oppure c'è tra virgolette analisi mercati dato che mi dice che è una roba che ha un pubblico e quant'altro cioè fate fatto un po di studio così se teletrasporto adesso ma stiamo scherzando costrino ci ha provato lui ci ha provato approvato adesso si può ti pare no siamo malati di true crime basta ed è quello che a volte serve per quello che a volte è sufficiente quello che sta anche winnino sì ma winnino come vi siete conosciuti con winnino salve allora io ho un tempo presunto in play to qua non la sento come non da se come non mi sente ci sono le pubblicità ok ok allora io ho preso un play to ne vuole uno o quattro che domande che faccio che domande che faccio nel senso proprio però magari dice vabbè dai dammene uno e me e me gli altri me li duplico ne voglio uno o quattro diamo cosa risponde intanto poi vediamo che faccia tosta che ho guardo come si duplicano e glielo dico aspetta un attimo e lo dico già ora si duplicano con il con i diamanti e la nederrack questi qua vediamo template questo questo è nederrack mi sa si chiama schema esatto serve la nederrack che servono sette diamanti per farne due per farne due dai li ho promessi faccio tutto io non si preoccupi io calma dove sei qua diamanti faccio tutto io gli ho promessi che fa lancia la spada ci siamo conosciuti sul disco di un altro podcast su crime poi chiacchiera di qualche crei la siamo messi a farne anche noi che figata che bravi e bello diamanti tocca andare a prendere anche i diamanti ne servono 14 ma certo che ho diamanti solo che magari volevo usare i suoi capito come però siccome io le mie cioè io mantengo i miei accordi avevo detto che eravamo 4 giusto li ne do 4 non c'è problema a casa ne ho 18 non si preoccupi io ne ho 18 mila qua da qualche parte vede quanti diamanti o pochi e su pochi però perché ho fatto l'armatura giari che carino che carino allora ne servono 77 14 giusto e 15 che vabbè torniamo a magazzino sto arrivando sto arrivando attenzione siamo pronti per ricompensare io non vedo l'ora di provarla quella farm lì non vedo l'ora di provarla si fa così 2 in totale sarebbero otto tempi data non ho capito mi perdoni 4 io devo dare 4 che 8 3 gliene do addirittura c'è pensi lei mi tocca dal dio caro è costata sta farma perché otto scusa perché per fare tutto è lo so vabbè però adesso io c'è l'armatura le posso le falle 4 viene devo dare poi lei se li duplicherà insomma abbastanza facile e mi lasci stare il cane per cortesia che fa che fa che fa che fa io io gli erano promessi 4 giusto cioè promessi ci siamo accordati per quattro e già sono in difficoltà e già sono in difficoltà con quattro veda lei aspetta un attimo devo tornare a magazzino e cioè rifugio va bene va bene ma no beh io ricordo che abbiamo detto ma perché pensavo fossero quattro non neanche pensato poi effettivamente la spada e tutto quanto però vabbè non c'erano ancora io ho solo la spada in edelite io non c'erano neanche gli attrezzi se li avevo però gli ho persi gli ho persi ma anzi mi hanno fottuti quella volta e mi hanno bruciato almeno la spada sì sì poi adesso lei si fa tutte le copie che vuole si fa tutte le copie che vuole non li perdono mi raccomando dov'è ecco qualche ma aspetta hai capito ok allora facciamo così 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 e siamo a 4 però io devo portarmi a casa quello quello mio perché sennò ne perdo uno e quindi quindi niente non toccano eccolo qua se lo so ok caro perché mi deve puntare addosso l'arco scusi a proposito grazie che mi ha fatto ricordare va fammi prendere un po di frecce perché qua non ne ho fammi rimettere l'arco qua vediamo adesso chi punta chi allora che felice che orco dico ho fatto stato io aspetta aspetta che mi hanno combinato un macello questo non mi sa che andava qua ecco qua caro go stream questo è il regalo più grande che io potessi fare a qualsiasi persona che mai entrato in questo server se l'è meritato tutto non ho più l'arco avevo io c'ho arco giovanna junior qua mi scomparso dalla mano che ne so guardi non lo so io trovato bravo spero lei sia contento di questo regalo e niente dai è stato un piacere collaborare con lei è stato veramente un piacere collaborare con lei e siccome è stato così buono e così gentile da offrirsi da offrirsi è già sparito già sparito da offrirsi a costruire una super farm gigante di grano viene regalo un altro se vuoi tanto cielo qua guarda se vuoi venirtelo a prendere ti regalo questo ti regalo anche sei diamanti se torni altrimenti non fa niente fammi sosseggiare sta tisana che ho portato su bollente che ancora non ho assaggiato e che non è più bollente guardi cosa le regalo ancora tenga copritemi di detriti tenga uno ecco qua così si aggiunge solo un altro diamante e solo un altro ma come contento e solo un altro di netherrack potrà avere anche a me c'ha già tutto c'è già tutto a serie si è fatto la copia lui bravo guarda che carino eh sì bravo complimenti tutto in netherrite adesso è tutto in netherrite bravo 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 allora noi quanto grano abbiamo fermato qua insomma insomma giù come si è messi in dispensa a livello tigrano secondo me male secondo me qua c'ho solo aggiunto io l'icona ma infatti è proprio vuoto quindi qua adesso riempiamo quindi li riempiamo teoria dovrei riuscire a fare tre file non riesco a farle vabbè facciamo qualche giretto in più lo facciamo ok almeno lo riempio tutto tanto neanche contengono più di tanto ste shulker però però poi ovviamente adesso dobbiamo fare il giro e dar da mangiare a tutti gli animali e poi ci salutiamo abbiamo fatto una live contadina dopo vado a provare proprio non vedo l'ora adesso sto un'ora alla farm tutto devo fare altre robe qualche c sto un'ora alla farm di polvere da sparo voglio vedere quanto riesco a fare ma anche tanti livelli in teoria anche tanti buoni livelli di esperienza si fanno lì a lei che non è che ce ne freghi più di tanto noi però in quanto non c'è ok abbiamo riempito questa io sono super felice super super felice i conigli bisogna portare qua qualche modo caro ghost stream lei non ha non ha letto il contratto lei non ha letto bene il contratto mi sa caro ghost rima perché oltre alla farm lì deve portare dei conigli nella mesopotamia almeno due almeno due conigli deve portare qua altrimenti purtroppo dovremmo come dire sequestrare la sua armatura e tutte le sue cose allora va bene dai andiamo avanti per carità razzi come siamo messi a razzi male qua e ricordo che sono food nelle derite pure io ora ma le ricordo che i pochi qua sono riusciti a battermi in pvp all'interno dell'arena ovviamente perché noi qua combattiamo solo in arena e solo in determinati giorni dell'anno non abbiamo più razzi o va che storia io non vedo l'ora di riempirli ste ste ceste qua di polvere da sparo perché mamma mia neanche carta niente proprio cioè dobbiamo riempire c'è strada anche di carta se poco da fare se io ne ho un po però sì va bene avrebbe un altro pochetto ma che diamanti non ho più niente ma che 11 no ma no purtroppo li hanno già dati parecchi più di quelli che avrei potuto darle no non posso veramente no non possono o meglio se mi porta due conigli qua io io le do 11 diamanti se vuole la compagna dove sono i conigli questo posso fare se mi porta due conigli le do 20 diamanti che devo dire 10 diamante diamanti per conigli questo posso fare se vuole li vado a cercare miniera e sono stanco e ho poco tempo bravo secondo me è esatto ci conviene andare a cercarli sono stanco e ho poco tempo se arrabbiato lo stream attenzione è no diamanti mi chiede tanto cioè mi chiede niente perché non ne ho vedendo diamanti no no dice ecco abbiamo fatto anche un po di meno male abbiamo fatto un po di razzetti adesso andiamo dai nostri amici animali abbiamo dei nostri amici animali facciamo mangiare non si capisce se prende in giro se prende in giro o è serio io non è il primo come lo dice perché a due stack di blocchi e stack normali ma non è quella lì ma tu sai lei sa quanto sudato io per avere tutta quella roba lì quelle riserve lì io non dovrei nemmeno toccarle tutto quello che sia magazzino e la disponibilità c'è capito per me se magazzino non ho niente di quelle robe la vuol dire che devo c'è anch'io dovrei andare in miniera e a farmare se avessi bisogno di diamanti capito no no so serio è come nella vita reale cioè bisogno sempre mettere via qualcosa perché sennò quel cacchio che va in pensione e quindi non ne ho cioè ne ho già dati tanti no dati non è vero o gli ho pagata perché per quello che doveva però gliene ho già regalati anche 6 sopra ma scusa cosa se ne fa di tutti quei diamanti per fare gli ultimi upgrade che le servono giustamente tu sei ancora tutto bloccato sì ma sì peccato i nostri cuochi qua come stanno a me ne andate pure fuori voi c'è uno solo è rimasto in cucina credibile non ho parole non ho parole andiamo agli nostri amici animali allora per fare 3.000 blocchi con due conigli cosa vuoi che sia io ci sono provato 25 mila volte senza esiti positivi però abbiamo delle nostre amichette queste sono animali che non vanno uccisi sappiatelo quando sarà ora noi portiamo fuori solo gli agnellini piccolini e li portiamo al macello ma non questi animali qua questi che vedete qua dentro mai vanno uccisi abbiamo le nostre scottone allevate a mano come potete vedere levate super la mano ok e adesso andiamo da fermi 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 no no vabbè e vabbè sei libera sei libera di andare piccola scottona vedete come siamo clementi noi come siamo buoni dolci con i nostri animali mica le uccidiamo perché scappano fatti 14 stato veloce però cosa ha usato gli x ray complimenti a che livello caspita 14 già vabbè che con fortuna tra cia fortuna 3 sul piccone fortuna 2 nel piccone ha usato x ray dica la verità o tra abbo abbo no dice donna è stato veloce stato veloce complimenti abbiamo un'altra fulne del rite in mesopotamia attenzione abbiamo un altro fulne del rite mesopotamia tanta roba vediamo cosa è cambiato un po' il discorso no cambierà mai qua mai poi mai eh vabbè andiamo a vedere qua aspetta aspetta vediamo se è cresciuto questo grano se è cresciuto lo raccogliamo ovviamente vediamo no no perché sto caricando pochissimi cianchi in realtà quindi attenzione alla moda addirittura se rifatto là da abito è bravo è bravo queste le portiamo a casa patatine e voilà e per oggi abbiamo dato abbiamo fatto un bel po' di robette cioè bel po' di robette una ne abbiamo fatta ma fatta bene ci siamo dedicati al grano per forza di cose ne abbiamo farmato giusto un pochettino un po' l'abbiamo lasciato qua a magazzino e però tutto quanto poi abbiamo fatto per la per la dispensa ovviamente abbiamo una richiesta di teletrasporto dov'è bello carino io vorrei rifarmi la mia usando il template quello più raro diciamo no che quello di che trovi il silence quello che trovi nella city ma come uno di uno 1v1 per chiudere in bellezza eh vabbè che te devo dire però dobbiamo andare in arena eh cioè io solo in arena noi facciamo ste robe qua solo in arena facciamo ste robe eh sappia questo mi segua e fuori dall'arena non si fa nulla eh vada lei all'arena perché non ora alzi ma no ma è qua cioè è qua l'arena che non c'è mai che ho manco voglia di camminare qua ci facciamo una bella nuotata che così ci riscaldiamo un pochettino è qua l'arena ma guarda te se mi tocca accettare ste sfide così a fine live cioè proprio incredibile le regole se sono praticamente c'è una regola sola caro con stream non ci sono regole dove è andato è negato ma eccolo che fa non ci sono regole però non ci sono regole all'interno dell'arena sia chiaro al di fuori cioè al di fuori non possiamo fare nulla sostanzialmente quindi solo cioè capito come solo in arena solo in arena possiamo batterci questo è sostanzialmente no 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 dio caro ma è che ma è che No, ho sprecato Ho sprecato il totem No No, ma è troppo forte lui Troppo forte Che scappa Che scappa Troppo forte Ma che forte Forte sì Forte Nostro amico Oh basta Aiuto aiuto E voilà signori Nessuno mi può battere Nessuno Nessuno Mi può battere Non ho il totem mio Mi dispiace Mi dispiace per lei Signori è stato un piacere Grazie di cuore Ovviamente è stato bello No, grazie mille È stato bellissimo GoStream Altrimenti aveva perso Però Cioè adesso Che avevo perso Eh caro mio Calcoli che sto mangiando carote Cioè non mi sono neanche preparato io Per fare sta pvp È stato solo Mi manca il corpetto Certo l'ho preso io L'ho preso io il corpetto E ho vinto Scusi Ho vinto e ho preso il suo corpetto Quindi signori Per oggi Ma mi ha sorpreso Sono messo male Oh oh che fa Che fa Che fa Oh sto chiudendo No 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 Sto chiudendo Sto chiudendo Guarda che sono fuori Adesso non mi puoi più toccare Sto chiudendo E sto in terza persona Dai non si fa così Guarda che sono fuori l'arena Il corpetto Ce l'ho io il corpetto Eccolo qua Quindi signori È stato un piacere Anche per oggi Fammi fare sto screenshot Che bellissimo Ne usciamo indenni Ne usciamo Soprattutto Più forti di prima Grazie per la bellissima esperienza Che abbiamo Che mi avete fatto vivere Anche oggi Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ovviamente adesso te lo ridò Ecco qua Figurati Ecco qua il corpetto Grazie infinite di cuore Io vi vi ricordo Signori E delle pubblicità Esatto Della pubblicità Grazie a lei Grazie a lei Ma ci mancherebbe Ah pensavo Della pubblicità Che va in questo canale Perché io Non la posso più controllare Già io l'ho tolta La pubblicità Però purtroppo Mi avete detto Che nemmai Che ne mandano Sempre Mi sa che ci stiamo Scollegando Quindi devo far prestissimo Comunque vabbè Stiamo anche un po La ghicchiando Ricordatevi di iscrivervi Al canale Signori lasciate like Dislike Commenti Insulti Ma soprattutto Ricordatevi di splendere Noi ci vediamo presto Io adesso non vedo l'ora Di andarmene un'oretta A provare Questa nuova farm Di polvere da sparo Che ci è stata gentilmente Offerta Dal nostro caro Ghostream Non è vero Non è stata gentilmente Offerta L'abbiamo Accordata Io gli ho fatto Io gli ho dato qualcosa E lui E lui mi ha dato qualcosa Grazie di cuore Ciao carissimo Ciao a tutti Arrivederci signorina Mary J Kelly Arrivederci a tutti Buon proseguimento Di proseguimento Di settimana Grazie mille